intellettuali. Ma guardi, il problema è che formalmente l'età pensionabile è alta, ma nei fatti l'età pensionabile media dell'Italia è ancora la più bassa in Europa. Questo vuol dire che noi tra un'eccezione e l'altra continuiamo a consentire pensionamenti anticipati alla generalità degli lavoratori più o meno anziani. Che sia necessario fare delle distinzioni è ovvio che definire un lavoro usurante o gravoso sia un compito del Parlamento... E non lo fanno perché hanno paura di una rivolta se qualcuno si trova dentro o fuori, lei lo sa questo. Ma poi, guardi, lo so, ma è anche vero che per definire un lavoro usurante, non bisogna appoggiarsi a slogan, bisogna avere dei dati quantitativi su, per esempio, morbidità, mortalità, tasso di incidenti sul lavoro. Cioè, bisogna avere un'evidenza empirica che noi, se abbiamo, trascuriamo in sede politica quasi sempre, perché nessuno di questi politici dice questa è una misura basata su questi dati. Per esempio, una misura che riguardi le pensioni basata sulla demografia, io non la sento mai menzionare. L'unico è Giorgetti, che però a un certo punto anche lui deve assumersi le responsabilità. Cioè, lei vuole dire predica bene e razzo la male, professoressa? Vuole dire Giorgetti predica bene ma razzo la male? Beh, ogni tanto lancia dei petardi, no? E poi ritira la mano, anche perché banalmente è sempre nello stesso partito di Matteo Salvini che invece dall'altra parte continua a promettere, come abbiamo visto, riforme radicali. Abbiamo... Sì, è un tema... Prima del Superspot...